ragà questo video è fatto per farvi vedere quanto ci ho messo per arrivare al livello massimo su fai gai e dopo tutti i crash con due partite perse vinte finalmente sono arrivato al livello massimo quindi ora vi lascio ai video e niente bella raga finalmente allora non sapete cosa è successo quando già mancavano dieci giorni alla fine del pass battaglia ed ero tipo livello quasi alla fine che il livello massimo finale è il 40 che tipo ero a livello 36 avevo mi ero arreso perché tanto sapevo che non sarei mai più arrivato al livello massimo quando mancavano solo più dieci giorni per il pass battaglia e poi oggi mancavano tre giorni per la fine del pass battaglia sono stato tutto il giorno con ansia e tutta c'è più d'ansia con la paura di che non riuscisse a salire al livello massimo che mancano solo tre livelli e ora con ansia ho aperto il guys per vedere a che livello euro e quanti giorni mancavano e al posto di tre giorni sono saliti a 16 giorni quindi ora avrò ancora 16 giorni per cercare di salire al livello massimo vi aggiornerò questo video non so quando uscirà ma lo sto registrando il 26 febbraio 2021 però finalmente raga finalmente hanno aggiunto dei giorni io non lo sapevo cioè ero ansioso ma proprio tantissimo e ora finalmente sono a livello massimo cioè non sono a livello massimo ma cercherò di salire al livello massimo vi aggiornerò un bel notizio un bel notizio un bel notizio un bel notizio Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.